Siamo al boot di Dusseldorf con la matita che ha disegnato gli Invictus. A bordo del 280 CX siamo con Christian Grande. Cosa ci racconti di questa nuova produzione? Questa è la prima imbarcazione, il primo esemplare che rappresenta la nuova gamma CX che si estenderà evidentemente, ma sostanzialmente va a completare il range offerto da Invictus che già conosciamo partendo dalla GT, quindi dal 280 GT a 370, sono barche tipicamente più sportiveggianti. Poi conosciamo anche la SX e la FX, sono imbarcazioni, se si vuole definire anche con una caratterizzazione stilistica più semplice, ma comunque ugualmente molto ricercate nei dettagli. Ecco, la CX vuole essere quella imbarcazione appartenente alla radice X con cabina. La barca quindi, dove la C si intende cabin, racchiude in effetti un spazio importante. Nella sottocoperta troviamo un bagno abitabile, troviamo un letto trasformabile, un bel mobile bar con frigorifero. Chiaramente si parla del primo cruising, non è una crociera da lunga durata, però sicuramente offre degli spazi comodi, confortevoli. Un po' come succede sulla GT, chiaramente però è leggermente differenziato in termini di abitabilità e di spazio. Ho raccordato qua il fatto quello che è, un po' arriva dalla gamma FX e dalla gamma GT, sostanzialmente perché il mercato chiede un prodotto di questo genere, con sempre molta attenzione al dettaglio, ai cromatismi. E' molto evidente quello che io definisco, che forse è percepibile, l'Italian style. Lo si riconosce proprio da questa complessità marterica che si insegue. Questi materiali, appunto, pelli, tessuti, che non vogliono essere banali o casuali, vogliono raccontare di un terrazzo, vogliono raccontare di una selleria, vogliono raccontare della borsetteria, vogliono raccontare di esperienze, di stile, che non sono propriamente e unicamente nautiche, ma hanno una derivazione molto più profonda, una derivazione che evidentemente potrebbe essere quella esperienziale anche mia, visto che non mi occupo soltanto di nautica, e ho cercato di convergere in questa serie di prodotti. Su un oggetto del genere è più facile convincere l'ipotetico armatore a trovare qualcosa che lo faccia sentire partecipe di un mondo a sé stante, quindi che entra nel suo piccolo in un ambiente lussuoso, oppure lavorare sulla sua voglia di andare per mare, sulla sua voglia di navigare, sulla parte più intimamente di soddisfazione? Io ti dico che sicuramente noi siamo di fronte ad una barca, e non dobbiamo dimenticarlo. Si è attraversato un periodo, ci sono ancora qualche residuo di questo periodo, progetti dove la barca era dimenticata, la barca era talmente icona che bastava averla e doveva essere strana per stupire. Noi qua stiamo ancora parlando di barche vere, la prima cosa è che la barca navighi bene, fra l'altro inviterei, al di là del racconto visivo, che è un po' piacere, un po' piacere, però soggettivo, quello che invece è oggettivo è che la barca, questo tipo di barche, sto parlando di Invictus, navigano veramente molto bene. Partendo da questo assunto, quindi dobbiamo andare per mare, stiamo pensando di vendere una barca e non un accessorio a moda, dobbiamo essere sempre molto legati a questa cosa qua, quindi il nostro cliente deve essere un cliente che sceglie Invictus perché ha voglia di andare in mare, quindi dobbiamo raccontare che ci sono delle relazioni per andare per mare, sono dei tenti bene, magari sono più importanti, sono più grandi, di una barca di pari dimensioni, c'è il tech, ci sono degli elementi che sono comunque funzionali, io immagino molta trasformabilità, ma non casuale, questo sedile ne racconta una delle tipicità, la possibilità di dare ad una barca che normalmente ha una certa rigidità, un'impostazione, come dire, architettonica, una trasformabilità, significa un momento diverso di vita a bordo, senza dimenticare che quando guido devo sollevare questo, trasformarlo e il minore tempo possibile avere la perfetta posizione di guida, ma io quando sto comodo così e parlo, mi prendo un drink con te, magari sotto il tendalino, sto comodo, abbasso questo e mi corico, ecco. Andare per mare non è soltanto andare, è vivere il mare, perché andare è un momento e poi c'è tutto quello che è la giornata a bordo, la giornata a bordo è fatta di, come dire, di relax, fatta di condivisione. Quali sono gli elementi che ti hanno richiesto più impegno o che ti hanno divertito di più su questa barca? Faccio fatica, nel senso che è un po' un mix. La cosa che più, non c'è forse un elemento, la cosa che più mi ha divertito è creare, ti direi, la proporzione più idonea di vivibilità a bordo non percepibile dall'esterno. Cioè quel giusto compromesso di altezza murata, altezza di tuga, mascheratura, se vuoi, di certi elementi, che hanno permesso alla barca di essere percepita come grande dentro, ma piccola da fuori, picco intendo dire con un profilo piuttosto asciutto dall'esterno, perché la volontà non era quella di dichiararsi e vendere una barca cabinata, cioè non voleva essere un cruiser, vuole essere una barca che andiamo fuori a prendere il sole, fuori in giornata, ma se vogliamo trattenerci una notte, se vogliamo far dormire i bimbi, se vogliamo avere uno spazio all'ombra coperto, una bella toilette indipendente, ecco, posso fruire di questo spazio, quasi segretamente.